Ci siamo, benissimo. Ok, buongiorno a tutti, sono contenta di avervi tutti qui con noi oggi, sono Paola Corti e iniziamo oggi una serie di webinar che racconta la open education per l'innovazione didattica. Per favore chiudete i microfoni se non l'avete ancora fatto, grazie mille e magari anche l'audio che ha un ritorno, adesso io dove li vedo lo faccio io, se no per favore fatelo voi perché a chi entra. Grazie. Io sono Paola Corti e mi occupo di formazione e innovazione didattica a METID che è il Learning and Innovation Center di Politecnico di Milano. Con me ci sono oggi con mia grande gioia Fabio Nascimbeni dell'European Training Foundation, Francesco Branda dell'Università della Calabria e Susanna Iacona Salafia dell'UNESCO Italia. Oggi cominciamo a raccontare e a introdurre il tema della open education per la didattica attraverso una serie di condivisioni con voi rispetto a quello che è diciamo un po' lo stato dell'arte ma anche se volete il concetto di open in sé. Ci piacerebbe partire condividendo proprio che cosa significa open education, che cosa significa open ancora a monte in modo tale da valutare poi insieme quali sono le occasioni che la open education ci offre per innovare la didattica e anche per lavorare meglio insieme. Spero che adesso piano piano vediate tutti il mio schermo, questa è la slide del primo giorno. Queste serie di webinar è organizzata come vedete sia in collaborazione con la rete open education Italia che con il sostegno del capitolo italiano della creative commons. Chi di voi non sapesse ancora cos'è la creative commons lo scoprirà a brevissimo. Tutti i livelli di conoscenza della open education sono benvenuti dal livello zero di chi non sa nulla di open education al livello più avanzato di chi già la pratica da anni. È una fortuna lavorare in questa comunità perché il vantaggio enorme è che tutti a qualunque livello sono desiderosi di condividere la propria conoscenza e di supportarsi e soprattutto lo sguardo di chi arriva da zero. È spesso preziosissimo per togliere dal campo i non detti e i concetti dati per sottintesi. Per cui non sentitevi timidi, fate domande anche di base perché magari a noi può capitare di non ricordarci che certi concetti non sono scontati. Cercheremo oggi però di partire proprio dal basso. Come vi dicevo appunto oggi è il primo incontro, il focus di oggi è cosa significa open e qui vedete molto rapidamente di nuovo i nomi e l'affiliation dei nostri ospiti di oggi. Partiamo. A cosa serve l'incontro di oggi? L'incontro di oggi ha come obiettivo che voi possiate comprendere, scusatemi sono già andate avanti le slide senza che io volessi, giusto per cominciare, eccoci qui, comprendere che cosa significa open education, che cosa sono le open educational resources, che cosa sono le open educational practices, identificare le potenzialità della open education in diversi contesti educativi, in particolare perché il focus appunto è l'uso dell'open education nell'innovazione didattica e acquisire già da oggi una conoscenza di base delle licenze open, principalmente le licenze creative commons. Infine c'è uno spazio anche per discutere anche insieme e volentieri i punti di forza e di debolezza della open education in termini per ora generali. Poi abbiamo altri quattro incontri per scendere molto in dettaglio anche a livello operativo. Partiamo da questo, che cosa significa educazione? L'educazione è basata sulla condivisione delle conoscenze. Senza condivisione è difficile parlare di educazione, tra un docente e un discente c'è uno scambio e sottolineerei la parola scambio perché non è mai unidirezionale, che aiuta a far sì che le conoscenze e quindi anche poi le competenze a partire da queste possano fluire in una direzione e nella direzione opposta. Questo concetto della bidirezionalità è alla base dell'educazione ma anche della open education. Un aspetto fondamentale di questo passaggio è l'opportunità offerta dal fornire e ricevere un feedback, cioè dare modo ai partecipanti ai percorsi formativi tutti compresi, quindi compresi anche i docenti in quanto partecipanti ai percorsi formativi, di offrire e ricevere un feedback che consenta di migliorare nei passaggi successivi e anche di ricevere critiche, critiche che ovviamente è ideale che siano fatte in una modalità costruttiva perché altrimenti risulta un po' difficile assorbirle o ascoltare il messaggio e non il modo in cui viene presentato e che però sono fondamentali anch'esse per riuscire a proseguire nel percorso di approfondire, di formazione. È fondamentale anche condividere incoraggiamenti, anche questo in entrambe le direzioni e gli incoraggiamenti possono consistere quando si è in aula in uno sguardo, quando si è online ancora in uno sguardo quando la webcam è condivisa o altrimenti con un feedback che può essere anche dato solo attraverso un'icona, un pollice alzato, un ringraziamento, un applauso, qualunque sia il feedback oppure un commento testuale in una chat laddove questa sia disponibile. Queste forme di incoraggiamento sono tutte fondamentali per continuare e favorire uno scambio efficace. È importante anche che venga condivisa la passione perché la passione passa attraverso tantissimi canali compresi quelli digitali, comprese le risorse educative digitali e le pratiche educative in presenza e digitali e la passione è alla base dell'efficacia dell'educazione in entrambe le direzioni, ancora una volta. Questo schema che vedete adesso è un po' una rappresentazione complessiva di come possono avvenire questi scambi. Gli scambi come vedete non sono solo nella direzione docenti e studenti ma sono anche nella direzione tra i docenti stessi con tutte le attività multitasking e multidisciplinari che si possono mettere in atto e tra studenti con i loro pari in modo tale che ci siano uno scambi, ci siano scambi anche orizzontali che aiutano a rivedere e rivalutare le conoscenze attraverso percorsi di condivisione attiva. Se non c'è condivisione però la sostanza è che non avviene un percorso educativo, se non c'è una condivisione di conoscenze o di sapere di tutti gli aspetti che abbiamo visto prima lo scambio educativo non può avvenire. Sembra un'ovvietà ma non è scontato perché perché ci sia uno scambio bisogna essere in ascolto di ciò che torna, non è solo un percorso di andata. Per cui adesso vi chiederei di cominciare subito a entrare in VCLAP. L'indirizzo di VCLAP adesso ve lo mettiamo nella chat e io inizio subito, scusate vi condivido io intanto, vedete che cambio pagina del mio browser e se siete tutti entrati in VCLAP.com vi invito a inserire come codice evento OIAR1 e adesso potete cominciare la prima attività di oggi che è veramente semplice. Il codice OIAR1 non va inserito qui dentro cosa si può condividere senza rimanerne privi, pazienza, qui potete inserire quello che pensate come risposta alla domanda. Cosa potete condividere senza rimanerne privi? Una volta che siete entrati non avete più bisogno di inserire il codice OIAR1, adesso potete inserire, ecco vedo già comparire qualcosa, la passione, il sapere, la conoscenza, conoscenza, buone pratiche, esperienza, tutto qualcuno dice, bellissimo, entusiasmo, energia, empatia, bellissimo, stanno comparendo tantissime voci che poi andremo a visualizzare anche in modi diversi. Idee, concetti, entusiasmo, tutto se si volesse, energia, buone pratiche, sono tantissime, scusate mi torno indietro, consigli, saperi, affetti, amore, conoscenza, ragazzi fantastico, ci sono, gioia, peper scientifici, ottimo, abbiamo anche cose molto concrete, documenti digitali, consigli, benissimo, dubbi, dubbi, grazie a chi ha scritto dubbi, una melodia, benissimo, voglia di apprendere, fantastico, fantastico, benissimo, allora cominciamo a passare allora al passaggio successivo, un momento, vediamo, allora ragioniamo insieme, un'idea può essere condivisa senza rimanerne privi, quindi anche a partire dagli esempi che avete voi detto, sì se io condivido un'idea, l'idea rimane anche a me, giusto? Quindi è una delle tantissime cose che possono essere condivise senza rimanerne privi, intanto per chi di voi non conosce il mondo dell'open, comincio a farvi notare che in basso alla fine di ogni slide, laddove ci sono immagini che non ho creato io, che non abbiamo creato noi, c'è un link e una licenza d'uso, e intanto comincio a farvi notare questo aspetto, questa immagine bellissima non è mia, ma la potete trovare anche voi al link che trovate in fondo alla slide e vedete anche qual è la licenza in termini legali che ci consente a tutti me e voi di riusarla. Posso condividere il fuoco senza rimanerne privo, se con il mio accendino accendo un fiammifero e passo il fuoco ad un altro, lo aiuto ad accendere una torcia, il fuoco è un'altra delle cose molto concrete che io posso condividere senza rimanerne privi. Cosa succede con un libro cartaceo? Quanti di voi, come a me, è capitato di condividere un libro con qualcuno, di prestarlo, oppure di ricevere anche un libro da qualcuno e poi dimenticarvi di restituirlo? Ecco, il libro cartaceo è un bellissimo regalo, condividere un libro è un bellissimo regalo, prestare un libro è bellissimo, se tutti poi fossimo anche capaci di ricordarci, ma è per prima che vanno restituiti e non in tempi biblici come a volte mi accade, questo aiuterebbe, no? Però se io presto un libro a qualcuno, condivido un libro con qualcuno e questo libro intanto, anche solo per tutto il periodo in cui il libro non è con me, questo libro non è più nelle mie mani, è un libro che è nelle mani di qualcun altro. Cosa succede però nel momento in cui io condivido un libro nel suo formato digitale? Cosa succede? Il libro può essere anche rimasto a me, ci siamo. Quindi se vogliamo il formato digitale mi aiuta ad accedere a un contenuto che io ho condiviso. Adesso però mi interessa fare un passaggio in più con voi, ci stiamo avvicinando al concetto di open, come vedete. Se io condivido un libro in formato digitale, ho preso una risorsa, poi valutiamo il problema della licenza, avevo i permessi o meno, adesso pensiamo solo all'oggetto digitale in sé. Ho preso una risorsa che continuo ad avere anch'io e l'ho condivisa con qualcun altro. Questa risorsa in qualche forma in questo modo si è resa accessibile, grazie anche al mio aiuto, a qualcun altro, che quindi la può consultare, la può leggere e eventualmente farà la stessa cosa. Se la trova utile, se la trova fondante per fare un passaggio evolutivo nei propri percorsi di formazione o per condividerla con i propri studenti, eccetera, la può condividere a sua volta. Però condividere non è, scusatemi, il concetto di accessibile non coincide con il concetto di open. Vediamo meglio perché. Quando noi abbiamo a che fare con quel grandissimo abilitatore di condivisione di risorse digitali che è per noi internet, abbiamo il vantaggio di uno strumento che in sé rende possibili tanti livelli di condivisione. Ok? Quindi internet di per sé è uno strumento che ci abilita a condividere risorse digitali. Abbiamo però anche a che fare con delle normative, delle leggi, non solo a livello nazionale, anche a livello internazionale, ed è per questo che parliamo sia di copyright che di diritto d'autore, che tutelano gli autori di un'opera e nonostante tutte le migliori opportunità per le quali sono stati creati hanno anche come conseguenza, da certi punti di vista, una limitazione del riuso di queste risorse. E tutto ciò con delle motivazioni ben fondate che andremo a vedere più in dettaglio la prossima volta. Oggi però ci limitiamo a ragionare sul fatto che il diritto d'autore, di base, in Italia perlomeno, fa sì che quando un'opera viene creata dall'inizio della sua esistenza per default, cioè immediatamente così nel momento in cui l'opera viene creata dall'autore, l'autore ne detiene tutti i diritti. Quindi tutti i diritti su un'opera sono di default in Italia dell'autore che la crea, salvo che questi non li ceda per fini commerciali o per altri motivi tutti legittimi, ad un'altra persona. Quindi rimane la paternità dell'opera, cioè l'opera è stata creata da Paolo Accorti, poniamo, ma i diritti d'autore Paolo Accorti li ha ceduti a una causa editrice o alla propria università, di caso in caso ci sono situazioni diverse. Di fatto però il diritto d'autore e il copyright non permettono che l'opera venga riusata da terzi così come bisogna lavorarci. Questo è il motivo per cui ragioniamo sul tema dell'open e del fatto che open è diverso da gratis. Il fatto che una risorsa digitale esista e sia diciamo trasportabile da un device a un altro o inviabile da un utente a un altro non la rende di per sé open e il fatto che questo passaggio sia fattibile gratis non definisce l'open in sé perché open è più di gratis e questo è il punto focale dei nostri incontri a seguire. Open vuol dire gratis più dei permessi, dei permessi che il detentore del copyright decide e del diritto d'autore decide di rilasciare a tutti gli utenti. Cosa vuol dire quindi? Andiamo a vederlo insieme. Andate a questo indirizzo che è un Answer Garden e lo vediamo poi insieme. Ciascuno di voi può inserire qui la propria risposta e poi io andrò a salvarle e dovreste poi vederle comparire man mano. Che cosa significa allora open education? Se abbiamo detto che open è gratis più dei permessi? Provate a spostare, lo so che non ne abbiamo ancora parlato esplicitamente quindi lo facciamo proprio per vedere che cosa vi stimola questa domanda. Che cosa significa open education? Che cos'è l'open, l'educazione aperta? Se noi lavoriamo con dei contenuti che siano gratuiti ma che ci vieno anche dei permessi. Cosa ci immaginiamo essere l'educazione aperta? Provate a rispondere a questa domanda, prendetevi del tempo per ragionarci un attimo e mettete la vostra risposta dentro. e man mano andremo, oh cominciamo a vedere qualcosa a comparire. Risorse condivisibili, condivisione, riuso, zero manette, interessante, share with respect, costruzione insieme, condivisione e riuso, extra condivisione, questo mi interessa, vorrei avere una spiegazione in più, magari anche solo nella chat di questo extra condivisione, che mi interessa molto. Vediamo cos'altro ci state proponendo. Senza barriere, interessante, movimento educativo, ottimo, creatività, sapere accessibile, accessibile a tutti. Apertura, creare con la classe, questo grazie a chi ha scritto creare con la classe, interessantissimo, implementabile, ottimo, consapevolezza, accessibilità, riuso, offro e riutilizzo, fantastico. Risorse gratuite, benissimo, ma sono più che gratuite. Co-creazione, grazie mille, uguaglianza, studenti in charge, anche questo ottimo, grazie. Diffusione legale, perfetto. Condivisione e trasparenza. Movimento educativo, grazie mille, continuate pure se volete, io intanto torno un attimo alle nostre slide e vediamo. Vi propongo una definizione di Open Education che è stata scritta dalla comunità europea, l'European Science Hub nel 2016, quindi ha già qualche anno, però è assolutamente ancora valida. È un modo, perdonate la traduzione in corsa, è un modo per condurre, direi proprio, perché è proprio una conduzione dell'educazione, spesso utilizzando tecnologie digitali. Il suo scopo è ampliare l'accesso e la partecipazione a tutti, rimuovendo barriere e rendendo l'apprendimento, non l'insegnamento, badate bene, l'apprendimento accessibile, abbondante e adattabile a tutti. Offre molti eplici vie di insegnamento e apprendimento, costruendo e condividendo conoscenza. Offre inoltre una varietà di vie d'accesso a percorsi formali e non formali di educazione e li connette tra loro. Tutte le parole chiave che trovate qui dentro sono preziose per definire la Open Education e questo è un po' il tema di questi giorni. Adesso possiamo cominciare a parlare di risorse educative aperte. Se abbiamo definito, e se guardate bene un attimo, tutte le vostre risposte in Answer Garden toccano il tema della Open Education che stiamo trattando. Aspettate che nel frattempo, se serve, passo dei fogli a bianca così mi passa le domande. Ok, grazie. Nel frattempo abbiamo tutto per la presentazione che verrà dopo. Dunque, dicevo, se badate bene alle risposte che avete dato voi in Answer Garden, abbiamo tutte le caratteristiche che poi sono state riprese di fatto nella definizione della comunità europea. Parliamo di Open Education, siccome uno dei temi che trattiamo oggi sono le Open Educational Resources e le Open Educational Practices, partiamo dalle risorse educative aperte. Le risorse educative aperte che cosa sono? Sono i materiali di apprendimento, di insegnamento e di ricerca in ogni formato o in ogni media che risiedono nel dominio pubblico o hanno un diritto d'autore e sono stati rilasciati con una licenza Open. Quindi o risiedono nel dominio pubblico e poi vediamo che cos'è e che valore ha questa cosa in Italia, poi scendremo nel dettaglio la prossima volta ma un cenno lo faccio subito, oppure hanno diritto d'autore, vi ricordate che abbiamo detto che il diritto d'autore in Italia è il punto di partenza per ogni risorsa che viene creata e sono stati rilasciati con una licenza Open che permette accesso gratuito ed ecco il gratis, riuso, adattamento e ridistribuzione da parti di altri, gratis più i permessi. Vedete qui perché abbiamo detto che per noi Open è gratis più i permessi. Ci manca un pezzetto che sono le Open Educational Practices che vediamo tra un attimo, però soffermiamoci qui un momento. Le risorse educative quindi sono tutte quelle risorse che voi e noi possiamo trovare in rete con dei link attraverso ricerche che alcuni motori di ricerca facilitano perché ci consentono di filtrare le risorse anche attraverso le licenze con cui sono state rilasciate e che o sono di dominio pubblico e vuol dire che fanno parte o di risorse che non hanno più un copyright su di esse, quindi risorse vecchie nel tempo e dopo andiamo a vedere quanto vecchie devono essere per essere entrate nel dominio pubblico, oppure che hanno ancora un copyright e un diritto d'autore vigente in termini legali, ma l'autore ha deciso di condividerle con una licenza che appoggiata sopra il copyright, appoggiata sopra il diritto d'autore, che continuano a essere la base legale anche delle licenze stesse, permette ad altri di riusarle in base ai permessi di quella licenza. Pensate al potere di questa scelta. Vi faccio l'esempio all'opposto perché solitamente c'è un po' di timore nel condividere una propria risorsa educativa con una licenza open. Uno dei timori è la perdo in qualche modo, non è più solo mia, qualcuno la può modificare. La prima cosa che mi viene da proporre come alternativa a questa visione è sto scegliendo di condividerla, la risorsa è digitale, la rete è piena di strumenti che consentono di riusarla a prescindere dai permessi che io ho voluto dare esplicitamente. Ma se io scelgo di ridare un permesso ci sono due cose che accadono. Per primo sono io che mi faccio agente di un cambiamento che consenta un esplicito riuso costruttivo di un materiale che altri possono evitare di ricostruire e possono dedicarsi ad adattare alle esigenze di altri o migliorare anche nella versione che ho creato io, magari aiutandomi a correggere degli errori o aggiornandolo perché io non sto dietro a tutti gli aggiornamenti e mi aiutano a renderlo più aggiornato. E magari tornano e me lo dicono, guarda grazie per questa risorsa, già che c'ero ho trovato questo link che non funzionava più, l'ho aggiornato, rieccoti la risorsa aggiornata. L'altro aspetto è, se qualcuno la vuole riusare e io ho dato degli espliciti permessi di licenza, nessuno deve tornare da me e chiedermi, scusa autore posso riusare la tua risorsa in questo e quest'altro caso? Perché glielo ho già dato io il permesso, la licenza dice già, ti sto dicendo che questa risorsa è da te riutilizzabile. Quando dovrebbero eventualmente contattarmi quando la licenza che ho scelto io non consente di per sé gli utilizzi che loro vogliono fare e nel qual caso io posso, come quando una risorsa è solo protetta da tutti i diritti riservati del copyright o dal diritto d'autore, posso comunque scegliere di dare dei permessi ad hoc per degli usi. Però la licenza lo dice già apertamente a tutti e questo è un passaggio che toglie all'autore un carico di lavoro quando ha la voglia di fargli usare la propria risorsa. Quali sono i permessi che vengono dati dalle licenze e che cosa consentono di fare? Sono cinque che poi si incastrano in modi più specifici ma partiamo dai cinque permessi di base. Retain, reuse, revise, remix and redistribute. Ve li dico in inglese perché vengono chiamati le five hours in giro per il mondo e mi preme sottolineare che è importante avere tutto anche in italiano e nelle lingue locali perché è importante piano piano che le lingue locali vengano riconosciute a livello di condivisione digitale in modo molto più intenso di come avviene già però resta il fatto che l'inglese continua a essere un ottimo strumento di scambio e di condivisione che consente di dialogare a livello internazionale e queste cinque R, le five hours, sono state originariamente definite in inglese, sottotrovate tutti i riferimenti per andare a trovare le definizioni nella versione originale e è importante poterle ritrovare anche nella lingua originaria perché questo è il momento in cui sono nate diciamo. La prima è retain, posso creare una mia copia. Le open educational resources, le risorse educative aperte consentono una copia in locale di una risorsa e questo è proprio il punto di partenza. Anche le licenze più restrittive consentono di creare una copia in locale di una risorsa. Posso riutilizzarle e le posso utilizzare in modi diversi. Posso quindi se ho il permesso di riuso e se la risorsa è aperta posso usarla in modi diversi, poi vedremo come anche attraverso degli esempi. Posso farne una revisione, posso adattarla, la posso modificare e la posso migliorare. Pensate alla potenzialità di questi aspetti dal punto di vista educativo. Trovo una risorsa in rete, è perfetta per i miei studenti e per gli obiettivi di apprendimento che voglio condividere con loro per il nostro percorso di formazione e trovo una risorsa che mi consente di risparmiare il mio tempo nel crearla, ma la posso adattare ai bisogni dei miei studenti qui ed oggi in questo percorso educativo di quest'anno e oltre a questo posso magari coinvolgerli e quindi dedico il mio tempo a capire come coinvolgere meglio i miei studenti per adattare questa risorsa insieme a me e renderla migliore e che magari dialoghi con loro in modo più efficace rispetto alla loro età, agli strumenti che loro sono abituati ad utilizzare e a cosa funziona meglio per loro con i loro occhi. Posso rimescolarla, posso mescolarla ad altre risorse, quindi se io ho dieci risorse educative aperte che ho trovato create da utenti diversi, se sono open, quindi se hanno delle licenze che tra loro sono compatibili e poi vedremo anche questo più in pratica nei prossimi incontri, scendiamo proprio nel dettaglio di queste attività, posso prenderle e prendere da ciascuna di esse quello che serve ai miei studenti nel nostro percorso educativo e costruire una risorsa educativa che deriva da queste e che abbia tutto quello che serve a me e ai miei studenti per essere efficaci nella nostra avventura di apprendimento insieme, nella nostra esperienza condivisa. E poi posso ridistribuire, questo come docente mi consente di condividerle con altre persone che siano prima di tutto i miei studenti, ma poi gli studenti dell'anno successivo, gli studenti di altre classi, immaginatevi un lavoro interdisciplinare tra classi che interagiscono su obiettivi didattici diversi o tra classi di scuole diverse, magari dislocate in paesi e in continenti diversi. Vi sto parlando di esperienze che sono già in atto e di cui vedremo poi degli esempi. Questo è quanto le risorse educative aperte abilitano, incentivano e consentono così potentemente che poi le pratiche educative vengono a nascere da qua. Perché adesso vi parlo di Creative Commons? Allora l'abbiamo già accennato prima alla Creative Commons, questo logo con le due C, che non è un caso sia la doppia C di copyright se ci pensate come immagine, è il logo della Creative Commons ed è uno dei, il simbolo diciamo delle licenze open più ampiamente utilizzate a livello globale per le risorse educative aperte. Che cos'è la Creative Commons? È un'organizzazione no profit che ha creato nel 2001 le licenze Creative Commons con una base legale di lavoro enorme, tenete presente che io non sono un avvocato, non ho competenze legali eccetto quelle che mi servono per praticare la mia attività da creatrice, ideatrice di percorsi di apprendimento o di risorse di apprendimento così come tantissimi altri di voi. Poi a me interessa il tema dell'open education, ho approfondito parecchio questi aspetti ma continuano a essere un legale. Per cui lo scopo di Creative Commons è stato proprio quello di lavorare con un team di legali, badate bene a livello mondiale, non solo a livello locale perché l'organizzazione è nata negli Stati Uniti ma come vedete hanno 48 capitoli dislocati in giro per il mondo, ne abbiamo uno anche in Italia che supporta questa iniziativa di oggi, del capitolo di cui faccio parte anch'io così come altre persone che partecipano a questo incontro oggi e opera in tutto il mondo continuando a collaborare con i team legali per confrontare le evoluzioni delle leggi, del copyright, del diritto d'autore in ogni paese e rendere le proprie licenze nel tempo sempre compatibili con l'ultima versione legale esistente. Io con Creative Commons collaboro anche per i certificate che loro rilasciano per educators, quindi per educatori e per bibliotecari con dei capitoli specifici di formazione che vanno a toccare i temi che interessano nel dettaglio chi si occupa di risorse educative aperte con lo sguardo dell'educatore e chi invece se ne occupa come bibliotecari. I bibliotecari sono fondamentali nel mondo dell'open education perché sono loro che insegnano a chi come me, anche lì, non ha tutte le competenze che ha un bibliotecario, come rendere le risorse davvero ricercabili in rete e come renderle catalogate in un modo adeguato perché siano poi ritrovabili e riusabili in modo anche corretto. La Creative Commons però ha iniziato a lavorare nel 2001, badate che il 2001 è l'anno in cui è nata la open education, stiamo parlando dell'altro ieri se ci pensate, internet è nato pochi anni prima come risorsa condivisa col grande pubblico e l'idea della open education è nata subito insieme a internet, ma mancavano proprio degli strumenti che consentissero legalmente di condividere le risorse in una modalità legale, non viene un altro termine, quindi con dei permessi che fossero affidabili da tutti i punti di vista. Poi scenderemo anche un po' nel dettaglio di qualche esempio di un po' della timeline di quando è nata, ma adesso andiamo un attimo avanti, vediamo un attimo quali sono le licenze. Ve le lascio come immagine un attimo perché se non le avete già conosciute così le potete conoscere almeno visivamente. Quando troverete questi simboli avrete sempre di fronte a voi una risorsa open, che sia poi una risorsa educativa open lo vediamo tra un attimo, ma tutte queste sono risorse che vengono condivise con la modalità open. Abbiamo anche come vi dicevo prima la fortuna di avere con noi oggi Francesco Vranda che scenderà un po' più di noi nel dettaglio di cosa vuol dire affrontare l'open science con un approccio open e per l'open science tutte queste sono risorse assolutamente valide. Per l'open education abbiamo qualche limite che vediamo già da subito qui. In questa slide poi avrete tutto, quindi non vi preoccupate adesso di prendere appunti, le slide saranno tutte condivise. In questa slide vedete che c'è una scala di libertà che le risorse, che le licenze consentono e in particolare alcune di queste licenze non sono compatibili con il concetto di open educational resource e sono le ultime due, quelle che consentono meno libertà. Questi simboli che voi vedete dove c'è l'omino e c'è la scritta by significa attribution, cioè dico chi è l'autore della risorsa. Questa licenza, la CC BY, a parte il pubblico dominio che appunto è quella che consente qualunque riuso senza neanche citare la fonte, la licenza CC BY chiede a chi riusa la risorsa di citare la fonte e la può usare la risorsa come vuole. Livello di libertà massimo. Il livello successivo, un gradino più in basso, CC BY SA, quindi attribuzione più share e like. SA sta per share e like, cioè condividi allo stesso modo. Poi vi darò più dettagli, quindi non vi preoccupate anche qui di prendere appunti. In questo caso il limite è voglio che tu riusi la mia risorsa, sì, ti do il permesso di riusarla, ma quando crei una risorsa che deriva dalla mia, anche la tua risorsa deve avere la stessa licenza, quindi anche tu devi condividere lo stesso modo. L'obiettivo che è ottimo, che però viene con delle limitazioni in più. Ottimo obiettivo, voglio che la politica e l'approccio open sia virtuoso, cioè se tu riusi una risorsa che ho condiviso con la modalità open, voglio che anche tu condivida la tua risorsa con modalità open, così che insieme costruiamo un parco di risorse che siano riusabili da chiunque in modalità open. Viene con dei limiti perché questa licenza non è compatibile con tutte le altre, quindi poi andremo nel dettaglio a giocare con le licenze. Il livello più sotto è CC BY NC. Vedete che in questa licenza share like non c'è, quindi non è condividi allo stesso modo, ma è NC, non commercial, cioè oltre a esserci l'attribuzione, BY, devo sempre dire chi è l'autore, non posso riutilizzare la risorsa a scopi commerciali. Questo cosa significa? Che la risorsa che io riutilizzerò può essere utilizzata in qualunque ambito, in qualunque contesto, ma non posso creare un profitto a partire da quella risorsa, per cui questo è un limite in più. Lo step successivo, CC BY NC e SAI, vedete che è una combinazione di tutti e tre simboli. Attribuzione, non commercial, share like, condivide lo stesso modo. Quindi io, se ho una risorsa di questo tipo, posso riutilizzarla? Sì. Posso ricondividerla in modalità open? Sì, ma la risorsa che deriva da questa risorsa dovrà essere utilizzata anch'essa per scopi non commerciali e condivisa allo stesso modo. Il simbolo che vedete sotto, dove c'è minor libertà, è non derivative. Non derivative sta per non posso creare opere derivate. Già questo vi dice che non è una risorsa educativa aperta, perché come docente io ho bisogno di adattare le risorse. Lo faccio con le mie stesse risorse? Figuriamoci se prendo qualcosa da qualcun altro che l'ha creato per altri utenti. Ho bisogno di adattare le risorse per i miei utenti. Quindi posso riutilizzarla? Sì. Posso crearmene una copia in locale? Sì. Posso dare un link a questa risorsa ai miei studenti? Sì. Posso modificarla? No. Quindi vedete che posso comunque riutilizzarla, ma devo stare attento che di per sé non è in sé una risorsa educativa aperta. Quindi che cosa fanno le licenze Creative Commons? Sono l'abilitazione a rendere open le risorse educative. Sono proprio le licenze che rendono una risorsa educativa aperta e che mi danno quindi il permesso legale di adattarla ai bisogni dei miei studenti e della nostra esperienza educativa condivisa. E adesso, tra un secondo, abbiamo il piacere di avere con noi finalmente la dottoressa Susanna Iacona Salafia che ci racconta della UNESCO. Buongiorno. Ci racconta della UNESCO IAR Recommendation che è un documento che è stato firmato nel 2019 all'unanimità durante la 40esima UNESCO General Conference, appunto a novembre del 2019, che abbiamo avuto la fortuna di presentare qui al Politecnico nel 2019 durante l'Open Education Global Conference e che è uno strumento guida per tutti noi che lavoriamo nel mondo della Open Education per rendere a implementare nella pratica educativa ad ogni livello, locale, regionale, nazionale e globale, i principi della Open Education. Quindi io adesso finisco di condividere il mio schermo così che possa condividerlo Bianca e Bianca farà scorrere le slide. Grazie dottoressa Salafia per essere con noi. Grazie a voi e complimenti per questa presentazione sull'argomento così innovativo, diciamo, sul quale al momento si sta scommettendo molto. Allora, quindi dicevamo, intanto vi presento, io sono Susanna Iacona Salafia, lavoro, sono una funzionaria presso l'ufficio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e in particolare sono responsabile del settore education. Il nostro ufficio si occupa della promozione dei programmi UNESCO a livello territoriale e quindi funge da raccordo tra il territorio e l'UNESCO, l'UNESCO centrale, la cui sede appunto come tutti sappiamo si trova a Parigi. Allora, sì, puoi partire con la prima slide. Non c'è più la condivisione, almeno io non la vedo. Bianca? Non vi sento e non vi vedo. Non vi sento e non vi vedo. Cioè, vi vedo ma non vi sento. Non la sento, dottoressa Corti. Come mai? La vedo però. credo che stiano risolvendo qualche problema tecnico per la condivisione e adesso arrivano. Dottoressa Corti al microfono spento. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Benissimo. Allora facciamo così, con un minuto che provo a condividere io la tua presentazione e poi le lasciamo la parola. Allora, dunque, vediamo un secondo. Condivido il mio schermo. Un attimo. Vedete la presentazione? Ecco, sì. Quando scorre io le muovo le slide, dalle una parola. Va bene. Allora, quindi dicevamo la raccomandazione agli Stati da parte dell'UNESCO. Quindi l'UNESCO per gli OER, cosa ha fatto, cosa sta facendo l'UNESCO per gli Open Education Resources, le risorse formative aperte. Andiamo avanti. Puoi andare alla seconda slide. Allora, quindi questa, se vogliamo parlare un po' del core, del fulcro, chiamiamolo così, o del focus di questa raccomandazione, ha cinque obiettivi che operano all'interno di aree di azioni. E allora, questi cinque obiettivi noi li abbiamo riassunti in questo modo. Quindi, innanzitutto, migliorare le possibilità degli utenti interessati di creare, accedere, riusare, adattare e ridistribuire gli OER, così come aveva accennato la professoressa Corti. E quindi anche applicare le licenze aperte in modo, diciamo, coerente anche con la legislazione di copyright e gli obblighi internazionali. Il secondo obiettivo di questa raccomandazione, che appunto, come dicevamo, è stata inviata a tutti gli stati membri nel 2019, è quella di sviluppare una politica di supporto degli OER. In che modo? Quindi incoraggiando i governi, le autorità educative e le istituzioni ad adattare un, diciamo, un processo regolatorio, quantomeno un quadro regolatorio, per sostenere le licenze aperte, ed è ciò proprio di cui ha parlato la professoressa Corti. Quindi anche sviluppare delle strategie per consentire, insomma, per diffondere il più possibile l'uso e l'adattamento degli OER a sostegno di una istruzione di alta qualità. Quindi l'obiettivo tre è incoraggiare l'accesso inclusivo ed equo ad OER che siano appunto OER di qualità. Quindi non a qualsiasi risorsa, ma devono essere OER altamente, diciamo, di alta qualità e quindi nell'ambito della ricerca scientifica che siano in qualche modo valutati o comunque che abbiano avuto un processo di verifica. Quindi curare, il quarto obiettivo, curare la creazione di modelli di sostenibilità per la diffusione degli OER. Quindi come a livello nazionale e istituzionale. E infine facilitare la cooperazione internazionale. Quindi facilitare la cooperazione internazionale tra i vari portatori di interesse. Perché? Soprattutto per minimizzare le duplicazioni non necessarie degli investimenti negli OER. E cosa immagina quindi l'UNESCO, diciamo, come obiettivo finale? Immagina la realizzazione di un repository globale di materiali educativi plurilinguistici e quindi culturalmente diversi, che abbiano interesse locale e interesse globale e che quindi assicurino la parità di genere e che siano accessibili da tutti. Andiamo avanti. Allora, ci si può chiedere ma come mai tutto questo interesse dell'UNESCO nei confronti degli OER? Abbiamo noi di fronte l'obiettivo 4 dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Non credo ci sia bisogno di dire cosa sia l'agenda 2030. L'obiettivo 4 è proprio quello di un'istruzione di qualità. L'UNESCO, come tutte le agenzie delle Nazioni Unite, hanno tra le loro mission quelle di supportare e contribuire alla realizzazione dell'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. In particolare l'UNESCO è l'agenzia capofila delle Nazioni Unite per l'educazione. L'educazione per il suo potere trasformativo sicuramente svolge un ruolo molto importante per il raggiungimento degli obiettivi, dei 17 obiettivi di agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quindi l'obiettivo 4, istruzione di qualità, significa istruzione di qualità per tutti. Un'istruzione di qualità che sia universale e che noi riteniamo, l'UNESCO ritiene, che questa istruzione di qualità, accessibile da tutti, che non abbia un gender gap, sia possibile anche, naturalmente non solo, ma sia possibile anche attraverso gli OER. Quindi l'istruzione di qualità è un obiettivo dell'agenda 2030 che è strettamente correlato ad altri due, sicuramente contribuisce all'obiettivo 1 dell'agenda 2030, sconfiggere la povertà, e altrettanto correlato all'obiettivo 2, sconfiggere la fame. Quindi l'obiettivo 4 è correlato a questi altri due obiettivi, ma non solo. e anche ad altri obiettivi, ad altri dei 17 obiettivi, che diventano integrati con l'obiettivo 4, perché coinvolgono direttamente l'educazione e che quindi vedremo meglio cosa intendo con obiettivi integrati all'educazione con la slide successiva. Quindi, vedete, questi sono altri obiettivi dell'agenda 2030 che coinvolgono direttamente l'educazione, coinvolgono direttamente il concetto di educazione universale, educazione accessibile a tutti. Quindi l'obiettivo 3, il benessere, la salute, in particolare il target 3, 7, in particolare il target 7 dell'obiettivo 3, che stabilisce l'accesso universale alla salute riproduttiva e ai servizi di cura, all'informazione e all'educazione. Il gender quality, la parità di genere, è un indicatore globale dell'obiettivo 5 dell'agenda 2030 e si prefigge di verificare le nazioni o di supportare le nazioni che hanno leggi che garantiscono alla donna la cura della salute, la salute riproduttiva in particolare, come? Attraverso l'informazione e l'educazione. Quindi l'educazione e la formazione è coinvolta naturalmente anche nell'obiettivo 8 per la crescita economica, è un lavoro, diciamo, accessibile, un lavoro accettabile per tutti. È chiaramente coinvolto nell'obiettivo 12 per un consumo e una produzione responsabile e chiaramente nelle azioni di consapevolezza relativamente al cambiamento climatico. Andiamo avanti. Allora, questi sono alcuni, diciamo, passaggi che io ho voluto prendere dal testo della raccomandazione 2019. Ad esempio, uno degli obiettivi è quello di sviluppare strategie per l'uso e l'adattamento degli OER a sostegno di un'educazione permanente, inclusiva e di alta qualità. Quindi, cosa dovrebbero fare gli stati nell'osservare questa raccomandazione? Adottare immediatamente quelle strategie che favoriscono l'inserimento degli OER nell'educazione. Quindi, si incoraggiano i governi e le autorità educative ad adottare quadri regolatori, perché appunto, come ha spiegato la professoressa Corti, gratis non significa utilizzabile in qualsiasi modo. Quindi è necessario sviluppare un quadro regolatorio a sostegno della licenza aperta. Quindi, promuovere gli OER nell'educazione come? Riformando i curricoli scolastici, i curricoli delle facoltà universitarie. E quindi la cooperazione per minimizzare l'opportunità degli OER. Insomma, in sostanza, l'obiettivo principale è un accesso equo, inclusivo ed effettivo ad OER che siano di qualità. Andiamo avanti. Allora, in tutto questo, chiaramente, c'è un'azione di monitoraggio. Sappiamo che la raccomandazione è del 2019, sono già passati quattro anni, quindi l'UNESCO vuole un po' tirare le fila, tirare le somme di quello che finora si è fatto nell'applicazione di questa raccomandazione. Quindi, recentemente, l'UNESCO ha concluso il primo monitoraggio, come avete qua, la prima consultazione del 2023. è un primo monitoraggio sull'applicazione di questa raccomandazione che è a sostegno della diffusione e dell'uso delle risorse formative aperte nell'educazione. In Italia, proprio recentemente, il mese scorso, il Ministero dell'Università della Ricerca ha provveduto a compilare e inviare il questionario richiesto su quanto svolto per la diffusione degli Open, degli OER, gli Open Repository esistenti, realizzati, e altre iniziative di promozione degli OER attuate in Italia in questi anni. I risultati di questo monitoraggio entreranno nel rapporto consolidato, che è un documento che si presenta sempre su varie azioni, su varie tematiche UNESCO, alla conferenza generale nella sua 42esima sessione, quindi a novembre del 2023, e anche i risultati di questo monitoraggio che chiaramente è avvenuto a livello su scala globale, saranno valutati dal Consiglio Esecutivo dell'UNESCO nella sua 200, sempre nell'autunno 2023. In sostanza, in sintesi, per l'UNESCO gli OER possono svolgere un ruolo cruciale nella lotta alle diseguaglianze educative e quindi per il raggiungimento dell'obiettivo 4 dell'Agenda 2030 per una istruzione di qualità, ma un'istruzione di qualità che sia per tutti, che possa davvero universalmente raggiungere tutti, soprattutto in quei paesi dove l'accesso, diciamo, alle forme tradizionali del sapere è reso difficile dalla povertà, innanzitutto, e anche dalla guerra. Andiamo avanti. Allora, che cos'è la collezione dinamica degli OER? È un'altra iniziativa dell'UNESCO per gli OER e riguarda, diciamo, una sorta di associazione, chiamiamola così, mettendo insieme tutti gli stakeholder dei vari stati membri, quindi i portatori di interessi relativamente agli OER. I ministeri interessati, le commissioni nazionali per l'UNESCO, le istituzioni educative di vario genere, associazioni non governative, insomma, e quant'altro, fino ad arrivare anche alla società civile, quindi chiunque, in teoria, sia un portatore di interesse, sia uno stakeholder, può farne parte, incluso aziende private, eccetera. Una coalizione, chiamiamola così, più larga possibile. È nata, insomma, subito dopo l'avvio della raccomandazione ed è possibile, appunto, farne parte, ricevere informazioni, essere coinvolti anche a livello informativo, ma anche organizzativo, gli eventi, eccetera. E quindi, anche se volete, condividere informazioni sui vostri progetti, programmi, eccetera, potete anche segnalarli a questo indirizzo email dell'UNESCO. Mentre invece a questa UR, lo potete, insomma, scaricare il modello di iscrizione e scriverli attorno, autonomente, e far parte di questa coalizione dinamica per la diffusione degli OR nel mondo. Andiamo avanti. Quindi, in definitiva, a cosa è arrivato all'UNESCO al termine di questo cammino, di questi quattro anni dalla raccomandazione 2019 agli Stati per la diffusione degli OR. e quindi le risorse formative aperte, Open Educational Resource, sono un bene pubblico, sono un bene pubblico digitale, così come anche l'educazione, la cultura, sono dei beni pubblici. E gli OR sono una chiave, sono cruciali, per un'educazione trasformativa, Transforming Education. E questo è quanto è venuto fuori a giugno 2022 durante il pre-summit, che si è, lo dico in latino, non in italiano, quindi pre-summit, il pre-summit di Parigi sul convegno internazionale Transforming Education Summit, o summit, che si è svolto a settembre a New York, organizzato dalle Nazioni Unite. E dura, lo dice la stessa parola, è stato un convegno, una conferenza internazionale della Nazione Unite, in collaborazione con l'UNESCO, per gettare le basi per la trasformazione della nostra educazione, per l'educazione del ventunesimo secolo. E quindi gli OR sicuramente hanno un ruolo all'interno di questo processo, e soprattutto perché sono entrati nella tematica Action Track 4. La conferenza internazionale aveva diverse tematiche, e all'interno di queste tematiche sono state lanciate delle azioni, call to action, e quindi gli OR fanno parte della tematica Action Track 4, Digital Learning and Transformation. Quindi, come cosa possiamo dire in estrema e estrema sintesi, OR, per una educazione più inclusiva, equa, efficiente e sostenibile. Vi ringrazio a tutti, e buon lavoro con le vostre attività sicuramente importantissime. Grazie mille, dottoressa Salafia, per questo intervento. Guardate, ricondivido subito il mio schermo, dovreste già vedere le mie slide. Stresserei con forza questo concetto che la dottoressa Salafia ha detto con grande efficacia verso la fine del suo intervento e che le risorse finanziate con fondi pubblici dovrebbero essere rilasciate con licenze open, perché la cultura è un bene pubblico, la conoscenza è un bene pubblico, e a maggior ragione se le risorse educative vengono create con dei fondi pubblici, sarebbe bello poter contare sul fatto che fossero riusabili da chiunque liberamente e gratuitamente. Speriamo che su questo si possa avere un dialogo ancora più assiduo con i ministeri, così da fare dei passi avanti e avere anche più impatto sia a livello locale che a livello nazionale nel condividere le risorse educative aperte. Quindi grazie per il suo messaggio e per il suo lavoro di tutta questa salafia. Facciamo un passo oltre, andiamo a vedere che cosa significa, cioè dove si posiziona la open education e anche le OIR, le risorse educative aperte all'interno dello scenario open più allargato. Qui vedete un'immagine che dà un quadro di come i vari open si intersechino tra loro e vedete che questa immagine ha un adattamento da uno schema che è stato condiviso da Robert Schuer che è uno degli esperti di open education quest'anno, nel 2022 ha vinto un premio mondiale di riconoscimento per la sua leadership di lungo corso nel mondo della open education e ci sono anche delle parti che possono già essere aggiornate di questo schema e pezzi che possono essere aggiunti. Volevo però farvelo vedere perché il mondo dell'open è un mondo che interseca diverse aree dove si sovrappongono alcuni percorsi di alcuni ambiti d'azione diversi ma che di fondo ha come condivisione la volontà di condividere risorse di condividere formazione e informazioni e dati in modo tale che tutto ciò che è stato cercato ricercato e creato da un ricercatore un utente un esperto in un luogo possa essere al servizio di esigenze di altri e non debba essere rifatto come mattone ma possa essere eventualmente modificato da chi ne ha bisogno con utilizzi diversi. Questo schema che magari adesso non vi dice molto chi di voi lavora già nel settore magari ci si ritrova o magari vorrebbe aggiungere dei pezzi però vi inviterei a tenerlo presente anche in futuro anche durante gli altri incontri che facciamo se volete ve lo ripropongo anche negli altri incontri eventualmente ditemi voi ma mi piacerebbe che noi oggi parliamo di open education open education resources e open education practices e lo faremo anche nei prossimi incontri ma mi piacerebbe davvero che teneste d'occhio anche le altre evoluzioni se siete dei bibliotecari sapete molto più di me anche di open access e di open science se siete dei ricercatori lavorate già nell'ambito dell'open science anche dell'open research magari e dell'open data abbiamo però adesso uno dei nostri ospiti che se ne occupa in modo più 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 forte di quello che faccio io in modo molto più esperto ed è con lui che è con Francesco Branda che andremo a vedere magari un po' meglio quando con diversi tipi di risorse ci sono permessi di attività diverse e in particolare con Francesco magari andiamo a vedere meglio che cosa significa open access che cosa sono gli open data perché sono importanti e che cosa c'è di diverso dall'ambito dell'open education all'ambito dell'open science dell'open data e come possono parlarsi e crescere insieme quindi smetto di condividere il mio schermo e sono felice di dare la parola a Francesco grazie Francesco Branda dall'Università della Calabria per essere tra noi grazie a te Paola per l'invito condivido subito lo schermo eccolo qua ditemi se lo vedete tutto bene? ok tutto benissimo grazie grazie Paola complimenti per la qualità della di questo primo webinar tanti spunti interessanti infatti tra le varie risposte ho anche sentito paper scientifici quindi mi forniscono un po' l'assist perché è quello di cui io mi occupo appunto sono un dottorando ormai alla fine sto per consegnare la tesi in information e communication technologies presso il dipartimento di ingegneria informatica dell'Università della Calabria e in questi anni voi potete immaginare bene come i dati siano fondamentali per un ricercatore per scoprire nuovi concetti e per appunto cercare di apportare il proprio contributo per aumentare quello che già è noto in letteratura ma in questi anni in particolare dopo la pandemia abbiamo capito ancora di più l'importanza di avere questi dati e soprattutto dati in formato open perché appunto era una malattia nuova ci siamo un po' trovati nel buio impauriti da questo nuovo virus che è apparso sulla scena e quindi era fondamentale avere questi dati per poter un po' monitorare l'andamento della malattia per creare anche delle collaborazioni tra ambiti diversi per appunto cercare di apportare questa nuova conoscenza che oggigiorno è possibile soltanto se questi dati sono open infatti ho voluto chiamare proprio il mio intervento dati aperti dalla teoria alla pratica perché questi dati a noi servono per poter creare valore e appunto vedremo la mia esperienza di questi anni per quanto riguarda soprattutto l'apertura dei dati epidemiologici open science l'open science noi sappiamo che io è quella che dico è fare scienza nel modo corretto perché cosa significa open science significa aprire ogni fase del ciclo di ricerca ogni fase per poter creare appunto come dicevamo prima parte da un concetto molto semplice cioè la ricerca finanziata con denaro pubblico deve essere immediatamente disponibile alla comunità e cosa significa appunto ampliare questo ampio raggio di azione dell'open science significa semplicemente fare in modo che si migliora la qualità della ricerca perché ovviamente io mi baso su risultati di ricerche precedenti quindi è un punto di partenza incoraggiare la collaborazione e quindi avere una maggiore efficienza come dicevamo poco fa cioè creare questa rete da ambiti diversi per avere dei punti di vista diversi e che poi possono convergere per creare nuova conoscenza accelerare l'innovazione lo abbiamo capito soprattutto per quanto riguarda i vaccini è stata grazie a questa collaborazione è la nascita di queste nuove intuizioni nella ricerca per accelerare il processo dei vaccini e quindi questo significa una maggiore velocità di emissione nel mercato e quindi una crescita più rapida dell'innovazione e soprattutto il punto che mi sta molto a cuore è quello di coinvolgere i cittadini e la società quindi una maggiore trasparenza del processo scientifico infatti che cosa significa coinvolgere i cittadini nella società non bisogna pensare che l'open science sia esclusiva del singolo ricercatore o della singola università ma coinvolgere i cittadini perché anche dal singolo cittadino è possibile ricevere attraverso la condivisione dei propri dati degli input che aiutano anche i ricercatori a fare le proprie ricerche ma è uno scambio uno a uno non c'è appunto il desiderio da parte del ricercatore di fare di ricerca solo per sé e quindi questo è un punto che in questi anni è stato molto importante il nostro un po' il processo dell'open dell'open science che poi si va appunto a includere in un meccanismo più ampio dell'open education è un processo molto standard nel senso si ha un'idea quest'idea ha bisogno poi di essere supportata dai fondi per far partire poi tutte quelle attività di laboratorio che ci consentono di fare ricerca e poi arriviamo al punto fondamentale i risultati della ricerca i risultati della ricerca che appunto in questi anni abbiamo visto ad esempio per quanto riguarda sempre il covid la protezione civile condividendo i suoi dati su repository git tab che git tab è una piattaforma dove solitamente si condivide codice tra programmatori oppure appunto dati per essere in modo che poi questi dati possano essere utilizzati e ovviamente poi lo scopo del ricercatore qual è? una volta che ottengo questi risultati cerco di pubblicare la mia ricerca ma ovviamente oggigiorno noi perché rappresento questa nuvola grigia? perché può capitare che abbiamo queste riviste scientifiche che supportano l'open access però in alcuni casi siamo costretti anche a pagare una tassa per la pubblicazione quindi questo va un po' a cozzare con questi principi dell'open science infatti abbiamo diverse tipologie di pagamento verso la rivista però appunto la speranza è sempre quella di poter pubblicare il proprio lavoro senza dover pagare questa tassa in maniera tale che anche un soggetto esterno possa leggere i nostri lavori senza poter appunto fare un abbonamento alla rivista e quindi poterne usufruire gratuitamente ma perché noi dobbiamo condividere i nostri dati della ricerca cioè perché anche il singolo cittadino o un utente qualsiasi deve sentire il bisogno di condividere i propri dati per motivi molto semplici innanzitutto per una certa visibilità e l'impatto io ricercatore o io cittadino che in qualche modo riesco a condividere i miei dati ho una certa visibilità quindi riesco anche a farmi conoscere al mondo esterno per far capire le mie capacità di cosa mi occupo e per avere un certo impatto poi nel mondo scientifico o nel mondo non necessariamente scientifico un impatto insomma in generale sulla società un altro appunto come dicevamo prima è un altro aspetto importante la riproducibilità riproducibilità che appunto io consento ad altre persone di poter riutilizzare i miei dati per poter accrescere il mio punto di vista su quel determinato tipo di dato per poter anche riuscire ad avere delle nuove idee oppure a confrontarmi con la persona che appunto condivide i propri dati e quindi anche avere una sorta di scambio un feedback sulla qualità del dato che infatti è lo step successivo l'affidabilità del dato perché se io ho per me tengo per me il dato non ho un riscontro con l'esterno quindi non so se quel dato contiene degli errori se quel dato è poco affidabile e così via e come dicevamo prima anche questa citazione dell'UNESCO appunto per quanto riguarda aiutare insomma facilitare la ricerca e l'informazione col covid-19 creare queste reti di collaborazione per poter fare in modo che appunto si possano generare in minor tempo possibile delle nuove soluzioni e quindi delle nuove conoscenze che possono aiutare la società ovviamente i dati devono seguire quattro principi fondamentali i principi cosiddetti FAIR principi che F sta per fa mindable io devo rendere subito rintracciabile quel dato per poter essere utilizzato accessible accessibile io una volta che rendo rintracciabile il dato devo fornire anche all'utente che vuole utilizzare quel dato la possibilità di accedervi e anche appunto di documentare in maniera opportuna quel determinato tipo di dato interoperable interoperabile il dato è importante se io riesco a creare delle collaborazioni o anche ancora meglio riesco a unirlo a collegarlo ad altri tipi di dati un esempio se io riesco è successo in una delle mie ricerche recenti per quanto riguarda il West Nile la febbre del Nilo siamo riusciti a capire una correlazione tra la febbre del Nilo e il clima ma questo perché appunto siamo riusciti ad avere i dati climatici in maniera open e noi insomma siamo riusciti a costruire questo database della malattia e cercando poi di cercare una correlazione tra questi due tipologie di dati che apparentemente ci possono sembrare lontani ma invece abbiamo scoperto appunto che la febbre del Nilo ha una certa correlazione in alcune zone alcune aree dell'Italia perché appunto presenta un determinato tipo di clima e appunto la R sta per reusable cioè questa capacità di riuscire a riutilizzare i dati quindi anche ad altre persone e adesso vi presento un esempio del mio lavoro di questi anni per quanto riguarda l'apertura dei dati epidemiologici è nato nell'aprile del 2020 questa piattaforma da Elixir una piattaforma che aveva che ha appunto perché ancora funziona uno scopo molto nobile cioè unire ricercatori di tutto il mondo e semplificare il processo di condivisione dei propri dati per poter appunto scambiare opinioni per poter coinvolgere anche altre persone sui propri progetti e così via dai vari scopi sia dalle sequenze genomiche sia ai progetti di ai dati grezzi appunto dei laboratori quindi questo progetto che poi ha dato il via a un progetto che io ho caricato su questa piattaforma Govida che era una piattaforma nata per aiutare il monitoraggio della regione Calabria nel comprendere l'andamento della malattia in un primo momento e poi anche della vaccinazione in un secondo e quindi dare anche al governo della regione insomma quell'input per dire in alcune aree della nostra regione si stanno verificando delle determinati delle determinate casistie e quindi noi siamo supportati dall'avere il dato e dall'avere anche una visione grafica della situazione in questo modo noi sappiamo dove intervenire come e quando intervenire quindi anche in questo caso l'importanza del dato che ci dà una visione grafica quindi non avere soltanto il semplice numero grezzo ma anche la capacità di poter graficare questi numeri per avere appunto una comprensione della situazione anche dal punto di vista grafico e poi appunto ultimamente è nata anche questa collaborazione con Agid agenzia per l'Italia digitale sulla loro piattaforma dati.gov.it che è la piattaforma nazionale italiana dove le pubbliche amministrazioni rilasciano i propri dati e quindi qui capiamo l'importanza di caricare per rispettare quel principio di risabilità quindi i dati che vengono caricati a resi disponibili sulla piattaforma per poter poi essere utilizzati da chiunque poi anche la collaborazione perché voi potete vedere in questo grafico quante fonti di dati diverse sono disponibili quindi il lavoro che è dovuto è stato fatto insomma per poter includere tutte queste fonti di dati quindi ricordiamo il principio di interoperabilità per poter poi essere inclusi in un unico database e quindi poter consentire all'utente di avere un unico punto di riferimento e non tante fonti sparpagliate e quindi insomma doversi destreggiare con magari dei dati diversi oppure delle tipologie completamente diversi del dato e quindi poi questo che cosa ha dato vita questa interoperabilità alla collaborazione come dicevamo inizialmente cioè l'importanza della collaborazione in questo caso tra l'Università della Calabria e l'Università di Catanzaro tra esperti diversi quindi l'ingegnere informatico lo statistico la virologa infatti in questo lavoro in particolare la collaborazione col professore Abbenavole dell'Università di Catanzaro e con la virologa Sandra Mazzoli e il suo collaboratore Massimo Pierini dove appunto abbiamo creato questo modello per prevedere l'andamento del del covid nelle regioni in Calabria in particolare come caso di studio e cercare di prevedere come sarebbe andato a distanza di una settimana quindi creare questo modello in grado di predire l'andamento del covid quindi l'importanza di avere tanti esperti diversi del settore per un unico fine e quindi io senza dilungarmi più di tanto concludo il mio intervento dicendo che prendo in prestito questa frase di Graham Steele che ci dice che pubblicare la ricerca senza dati non è scienza è semplicemente pubblicità quindi l'importanza di avere i dati in maniera open e soprattutto di non pensare che sia soltanto esclusività del singolo ricercatore o della singola università ma tutti noi cittadini tutta noi comunità europea mondiale dobbiamo fare in modo che questi dati possano essere appunto usufruiti da tutti per appunto cercare un passo alla volta di accrescere la nostra conoscenza grazie grazie mille Francesco per il tuo intervento e anche grazie per averci dato questa visione di un approccio open che poi alla fine dimostra a tutti quanto è preziosa la condivisione dei dati a beneficio della società intera non solo a beneficio dei ricercatori o di chi se ne occupa nel settore specifico e mi verrebbe da dire che ancora una volta ripartiamo dalle mie slide adesso un po' le pratiche che hai raccontato la pratica collaborativa che hai raccontato è assolutamente coerente con quelle che nel mondo dell'educazione chiamiamo open education practices cioè delle pratiche che consentono uno scambio non solo tra i soggetti coinvolti puntualmente nell'evento formativo in sé nel nostro ambito nel tuo caso nell'evento formativo scusami nell'evento di ricerca in sé o di raccolta ma che poi pensano già sono già volte sono già strutturate c'è una predisposizione di fondo a renderle integrabili con quelle di altri a renderle riutilizzabili da altri e a fare in modo che sia il percorso e non solo il risultato ad essere condiviso in modo tale che anche gli step del percorso non debbano essere ripensati magari adattati ma non debbano essere ripensati da zero e anche il concetto di interoperabilità che è chiave nel discorso che hai fatto tu andrebbe sempre più portato anche nel mondo delle open educational resources noi non siamo ancora così bravi su tutti i fronti è un mondo in evoluzione bisogna anche ammettere dove stanno le difficoltà secondo me ci sono degli aspetti sui quali nel mondo dell'open education abbiamo tanto da imparare da quello che condividete voi ricercatori quindi grazie per quello che state facendo e per il contributo dal quale si può imparare ecco ripartendo dalle open educational practices quindi le pratiche educative focalizziamoci un attimo su quello che è quindi la pratica appunto l'esperienza quella in cui non c'è solo un docente che eroga diciamo un percorso educativo e quindi fa sì che ci siano degli scambi come abbiamo detto fin dall'inizio ma che questo percorso in sé in cui c'è un docente ci sono dei feedback e i discenti cioè i partecipanti al percorso formativo siano tutti intorno tutti abbiano un ruolo in cui partecipano insieme all'evento formativo e c'è uno scambio continuo di feedback che consente di imparare gli uni dagli altri questa pratica stavolta non è il cosa si condivide ma è il come si condivide non solo in termini di licenza ma proprio in termini di percorso quindi la pratica del feedback che passa ben oltre i limiti e i confini del circolo di apprendimento del singolo evento educativo ma che li varca rendendosi disponibile ad altri perché possa essere replicata come pratica in sé e anche la pratica può essere condivisa con una sua licenza open e questo è anche qui andremo a vederlo in dettaglio nei prossimi incontri ma cominciamo ad avere un assaggio di tutto ciò attraverso degli esempi intanto di quanti e quali possono essere gli interlocutori coinvolti questo strumento che è il Learning Innovation Network che è stato realizzato da Metid qualche anno fa e che è riusabile e adattabile in modalità open chiaramente mostra alcuni degli elementi della rete di apprendimento che possono essere coinvolti nella progettazione di un evento educativo ma non solo nella sua progettazione anche nella sua attuazione e nel suo riuso a posteriori non scendiamo in dettaglio oggi su questo network perché preferisco dare adesso la parola subito a Fabio Nascimbeni che ci racconta invece di qualche esempio di pratica open che è in atto alla quale ha partecipato lui ma che mette in evidenza quanti e quali possono essere gli attori dopodiché questo schema lo avrete nelle slide potete andare a rivederlo e a ristudiarlo e magari se vi serve lo vediamo anche più in dettaglio insieme le prossime volte però adesso vediamo subito di dare smetto di condividere il mio schermo e do la possibilità a Fabio invece di condividere il suo così che vediamo con Fabio Fabio Nascimbeni alcuni esempi di esperienze di educazione aperta grazie Fabio di essere con noi grazie a te Paola spero mi sentiate e vediate le mie slide bene io approfitto di essere l'ultimo speaker ho rubato e adattato una frase in pieno feeling open dalla presentazione precedente dicendo che educazione aperta vuol dire fare educazione nel modo corretto credo che ormai possiamo dire questa cosa cioè partecipato inclusivo rilevante sostenibile poi magari sarebbe carino la prossima webinar cerchiamo altri aggettivi perché in effetti è bello pensare che dopo tutti questi anni dopo la raccomandazione UNESCO dopo oltre 20 anni erano 20 anni poco l'anno scorso che la prima la prima OIAR con questo nome è stata lanciata creata all'MIT e tutto quanto dopo tutto questo questo tempo diciamo almeno abbiamo capito che secondo me abbiamo capito noi che siamo o siamo stati dentro al mondo open che è il modo giusto di fare le cose per tanti motivi il punto adesso è a farlo capire agli altri e per questo la raccomandazione dell'UNESCO dovrebbe convincere i governi in primis le scuole le istituzioni secondo luogo e infine gli educatori che sono poi quelli che decidono come insegnare e anche che per farlo non è diciamo tanto difficile adesso proverò a spiegarvelo con alcuni esempi nel senso che non parliamo di grande tecnologia non parliamo di non abbiamo quasi barriere tecnologiche è più una questione di mentalità diciamo io dico spesso che non è una questione di headset pensando alla realtà virtuale ma di mindset che possiamo semplicemente pensando in modo un po' diverso possiamo raggiungere grandi cose quindi se torniamo all'impatto dell'open education alla fine vediamo che le tre cose tre delle cose che l'open education può fare così come è stata spiegata benissimo prima da paola quindi le licenze aperte che rendono possibile assieme alla tecnologia digitale l'uso delle risorse aperte che creano una serie molto molto ampia quasi infinita di possibilità appunto di innovazione di inclusione nei nostri processi educativi e se pensiamo appunto all'impatto sono cose che con le quali è impossibile non essere d'accordo io credo partiamo da questo l'open education così come è stata discusso a fine adesso promuove la conoscenza pubblica si è detto prima non solamente tutto quello che viene finanziato con denaro pubblico deve essere rilasciato con risorse pubbliche ma anche il resto è una questione di responsabilità nei confronti del prossimo secondo responsabilizza emotivo agli studenti sentiamo continuamente che anche durante il covid avevamo un grande problema di motivazione e un grande problema di partecipazione reale degli studenti a tantissimi livelli e vedremo comunque la ricerca che esiste su pratiche educative aperte ci dice che queste pratiche possono coinvolgere maggiormente gli studenti riescono a fare questa cosa e infine anche questo grande obiettivo dell'Unione Europea dell'UNESCO di tutti quanti crea una cittadinanza più attiva perché fondamentalmente insegna che cosa vuol dire condividere che cosa vuol dire condividere conoscenza in modo legale ma non tanto in modo legale non è tanto il tema in modo rispettoso dell'altro e dando valore al fatto che quello che io produco è probabilmente come già lo è lo è sempre come già come era come sempre stato e come sarà ancora di più pensiamo a nuovi strumenti di cui non parlerò di intelligenza artificiale ma diciamo tutto quello che io produco è molto probabilmente già stato scritto da qualcuno in modo molto simile o comunque verrà utilizzato da qualcuno in modo con qualche piccolo cambio quindi perché non rendere il tutto più semplice e legale diciamo così bene detto questo vi racconto alcune cose che negli anni ho raccolto pratiche di educazione aperta non sono l'unico ovviamente esiste un movimento di persone che fa ricerca e anima si definiscono un po' degli evangelisti in inglese dell'open education Paola è una di queste Creative Commons non fa altro che spingere appunto questo concetto molto semplice e quindi diciamo io ho raccolto un po' di pratiche e credo che alcune di queste pratiche siano proprio spieghino molto bene i vari tipi di apertura cosa diciamo quando parliamo di apertura questa è un'insegnante universitaria che insegna letteratura russa quindi siamo nelle scienze umane e che ogni volta che fa il suo corso dedica la prima settimana del suo corso a discutere con gli studenti il curriculum del corso e lei sostiene e in questo link lo trovate in inglese ma è molto molto godibile lei sostiene che sia innanzitutto la parte migliore del corso perché diciamo è la parte più interessante anche per lei ma soprattutto lei sostiene che gli studenti una volta che si sono messi in gioco e non è facile ovviamente lei ci mette una settimana dopo non possono non seguire perché comunque è un corso che hanno costruito loro sono loro i responsabili di quello che lei farà assieme a loro e che loro faranno insieme bene questo non c'entra niente con la tecnologia si può fare con un foglio di carta non c'entra niente con finanziamenti no perché tanto quella settimana lei avrebbe dovuto comunque passare con gli studenti ma cambia completamente la regola del giro ed è open educational design per dirlo all'inglese questo è disegnare per programmare produttare un corso in modo aperto che vuol semplicemente dire ascoltando gli studenti questo è secondo me il passo 1 per l'open education ovviamente non è semplice ovviamente molto spesso abbiamo dei dei limiti in quanto possiamo spaziare nei curriculum tutto vero però leggetevi la storia di questa persona e scoprirete che è molto più semplice di quello che sembra secondo caso gli open textbooks quando parliamo di OIR vi succederà dopo che dopo questo webinar dopo il prossimo di provarci quindi andrete in uno di questi repository che si chiamano metterete il titolo il nome della vostra materia e scoprirete che molto spesso trovate delle immagini magari carine però un'immagine un pezzo di testo in inglese qualcosa di non sempre molto strutturato questo è vero perché la cosa bella delle OIR è che si possono combinare e ricombinare la loro viene chiamata spesso granularità che può essere diversa poi ovviamente ogni paese ogni ecosistema è diverso dagli altri un altro approccio verso le risorse aperte sono i libri aperti quindi qui e qui e anche in questo caso è molto semplice invece del libro che ha fatto vedere prima Paola di carta oppure del pdf che sicuramente molti di voi usano per comodità pensate a questo pdf il vostro pdf di cui magari avete anche la proprietà intellettuale o comunque tutta la conoscenza che molti molti educatori gestiscono con dispense pdf pagine web eccetera messa in un portale come wiki to learn in un sito di questo tipo gratuitamente e in minuti 15 è una cosa veramente semplice e se quello diventa il libro di testo il libro di testo che viene all'inizio del corso frozen congelato quindi gli studenti vedono il libro di testo che è uguale per tutti ma quello che possono fare è commentarlo quindi questo esercizio è troppo difficile questa parte andrebbe ampliata questo non è più vero eccetera eccetera quindi quello che succede è che l'anno prossimo l'insegnante ha un libro migliorato voi pensate a questa cosa per 15 anni e pensate appunto quanto quanto questo possa migliorare i contenuti senza menzionare il fatto che è vero ci vuole un po' di coraggio per andare a scrivere qualcosa a commentare il libro di testo dell'insegnante ma se l'insegnante sa coinvolgere gli studenti e quindi diciamo lo fa veramente non semplicemente per dire usa un open textbook questa cosa può anche lei portare una maggiore motivazione degli studenti e lì sotto vi ho messo il link a un numero di una rivista che si chiama BRICS rivista in open access con cui collaboriamo come Open Education Italia dove si parla proprio di open textbooks altro punto valutazione aperta tipicamente noi valutiamo all'università o nelle scuole professionali o a scuola compiti piuttosto che test tutte cose che poi vengono buttati via e sono disposable sono cose che mi servono compito tipicamente mi serve prevedere se quella persona ha capito sarebbe invece possibile è invece possibile pensare a un modello in cui il lavoro di quello studente di quei gruppi di studenti ancora meglio poi pensiamo anche qui a approcci collaborativi non venga buttato ma venga usato per per esempio migliorare una pagina di Wikipedia faccio un esempio o piuttosto per scrivere un pezzo di un blog semplicemente l'insegnante potrebbe chiedere agli studenti di condividere apertamente quello che loro fanno la loro valutazione il loro saggio il loro compito eccetera e questo cosa fa aumenta la conoscenza disponibile in modo open nel mondo ma soprattutto insegna agli studenti cosa vuol dire pubblicare un articolo su Wikipedia non so quanti di voi hanno provato ma si viene pubblicati forse il quinto o sesto tentativo perché Wikipedia è molto attenta a quello che noi scriviamo quello che noi pubblichiamo non è un processo semplice ed è un processo che diciamo nella nostra contemporaneità più o meno tutti dovrebbero essere in grado almeno di conoscere se non di fare quindi anche questo è un modo per aprire la mente e i processi educativi altra cosa è aprire le aule perché se uno un insegnante che è capace di insegnare la propria cosa e la maggior parte degli insegnanti con cui ho a che fare lo sono molto spesso si limita a parlarne con i propri studenti questo signore che si chiama Juan Quimada insegna ingegneria all'Università Politecnica di Madrid programmazione in Spagna e un bel giorno si è deciso di prendere il suo corso che faceva ormai da anni e anni di spacchettarlo di rifletterci di pensarlo in modo MOOC quindi una parola che forse non avete ancora sentito oggi ma Massive Open Online Courses quindi di renderlo fruibile in modo più come dire spezzettato e in modo più aperto e quello che ha fatto l'ha poi caricato su una piattaforma di MOOCs e oggi questo professore raggiunge se ricordo bene più o meno 18.000 persone ad ogni corso 18.000 persone che finiscono il suo corso quindi lui dà un servizio gratis in questo caso a 18.000 persone invece che le 40 che aveva in classe prima e lo ha fatto ci ha messo un'estate questo è vero lui un'estate la passata a ripensarlo perché appunto non si tratta semplicemente di caricare le slides sulla piattaforma MOOCs è molto di più lo vedrete nei prossimi webinar però in questo caso è riuscito ad uscire dalla sua aula ed è diventato suo malgrado perché non lo cercava una piccola celebrità ovviamente adesso nel mondo ispanofono del software development è diventato appunto una persona che insegni in modo diverso che insegni in modo aperto infine abbiamo visto che non è una questione di tecnologia ma è importante sapere che esiste anche il tema dell'open source software quindi anche le scelte tecnologiche le scelte in termini di standard che facciamo senza esagerare hanno comunque un impatto e qui è importante sapere che se qualcosa esiste esiste anche l'alternativa open in questo caso parliamo di open standard e open source guardate nel link sotto voi cliccate mettete quello che vi interessa che state facendo e trovate automaticamente qualcosa di open e anche questo io vi dico sempre provateci anche io uso google ahimè uso microsoft potrei fare di meglio però quando posso ci provo e molto spesso scopro appunto che questi che questi software sono a volte anche migliori degli altri infine devo fare uno spot per open education educazione aperta open education italia che è una rete che parla di queste cose in modo più o meno continuativo e in modo sostenibile siamo paola è membro di questa rete è una rete di persone completamente informale che appunto tiene accesa la fiamma dell'open in italia e lì è trovato il sito iscriversi sono due click e fondamentalmente diciamo noi siamo molto felici come open education italia di supportare questi questo ciclo di webinar avremo altre persone della rete che parteciperanno ai prossimi eventi e il mio consiglio è se vi interessa il tema iscrivetevi è fondamentalmente una mail inglist a cui ci si puoi scrivere e ci si puoi togliere dopo cosa che succede nessuno si offende però diciamo è un po' il nostro modo di spingere un pochino più avanti la discussione sul tema open e niente che è come la userò moltissimo questa frase che è semplicemente il modo corretto di fare educazione devo dire che oggi ho imparato questa frase ed è strepitoso grazie mille grazie Fabio grazie mille sottoscrivo l'invito a proseguire se siete interessati le comunicazioni come cioè il clima è un clima molto informale anche all'interno di open education italia è molto accogliente non ci sono impegni particolari e tutti hanno voglia di dare una mano a risolvere quelle che sono le difficoltà dell'open perché come giustamente Fabio metteva in evidenza è facile fare open ci sono modi che sono immediati e ci sono però anche delle difficoltà che è giusto in qualche modo tenere presenti e che vorremmo andare ad utilizzare un po' come una guida sottostante anche per i prossimi incontri per vedere anche come risolverle come ci si dà una mano tra pari o tra esperti di aspetti diversi come si trovano anche i software come giustamente diceva Fabio c'è sempre un'alternativa open se esiste qualcosa c'è un'alternativa open e anch'io sottoscrivo ed è quello che cerco di fare anch'io cerco sempre di utilizzare un'alternativa open source quando questa è disponibile non sempre è facilissimo perché a volte l'open source non arriva ancora anche perché non ha i fondi magari o non ha ancora avuto persone a sufficienza che ci si sono dedicate per diciamo coprire alla pari certe funzionalità che altri software offrono ma ci arriverà ci arriverà inesorabilmente quindi bisogna tenere sott'occhio i software open e usarli quanto più ampiamente possibile grazie Fabio per il tuo intervento vediamo se le difficoltà che vi elenco adesso riusciamo pian piano in qualche modo a scalzarle una ad una anche nei prossimi incontri alcune magari rimangono però ce le teniamo proprio come base di lettura anche per avere un approccio critico all'open education che è necessario mantenere e manutenere badando sempre anche a mettere in discussione quello che facciamo in modo che davvero l'approccio open come diceva la dottoressa Salafia prima sia open nei fatti inclusivo nei fatti inclusivo di tutte le voci e delle risorse che arrivano da ogni parte del mondo non solo voci privilegiate o non solo da istituzioni o fonti che hanno più fondi di altre da dedicare perché è importante e che badino anche a essere inclusive di formati che magari non sono così affascinanti come possono esserlo altri magari più infiocchettati ma che nella sostanza hanno tanto da condividere e che però si basano su strumenti meno potenti perché non ci sono i mezzi magari per utilizzare i mezzi più potenti difficoltà che offre il mondo che diciamo che ci fa affrontare il mondo dell'open education le risorse sono sparse ci sono dei repository cioè dei punti di raccolta delle risorse open e andremo a vederli più in dettaglio dalla volta prossima vi condividerò dei link ci sono tanti modi per ricercare le risorse in modo trasversale in rete però è un dato di fatto che ci vuole un po' di competenza e un po' di tempo da spendere quindi magari il tempo il mondo dell'open education chiede meno tempo nel creare le risorse perché consente di usare le risorse di altri ma magari in questa fase ancora chiede del tempo da dedicare per orientarsi tra un repository e l'altro tra un sito e l'altro e nei motori di ricerca trasversali che fanno meta ricerche anche in base alle licenze stesse avremo modo di vederlo però poi qualche competenza serve poi serve anche qualche competenza per utilizzare le licenze creative commons in modo appropriato nessuna delle persone che ha parlato fino ad oggi correggetemi voi se sbaglio tra i relatori ha un profilo legale alle spalle siamo praticanti con degli expertise diversi situati in un ambito e non in ambito legale però usiamo le risorse aperte perché le licenze ce lo consentono e ci abilitano a farlo vediamo qual è il livello sufficiente sufficientemente buono di conoscenza delle licenze per lavorare con le risorse aperte non ci aspettiamo il metodo perfetto nessuno di noi pratica in modo perfetto il mondo dell'open education non ambisce alla perfezione ambisce alla costruzione evolutiva e ripeto correggetemi anche voi i relatori se sbaglio però partiamo da un'aspirazione sufficientemente buono che l'utente successivo ci aiuterà a migliorare questo è un bell'approccio collaborativo che permea il mondo dell'open education e tra l'altro come dicevo prima spesso non trovo quello che mi serve subito al primo colpo però l'altro aspetto dell'open education è che come vedete l'approccio è un approccio comunitario e quindi se non lo trovo io magari posso chiedere a qualcuno che mi aiuta a trovarlo prima di quanto ci metterei da sola ad arrivarci per conto mio e poi l'altro aspetto che non è un aspetto da poco è io ho come utente del mondo open degli obblighi formali a cercare le risorse aperte ecco se non li ho decisamente devo prima rispondere professionalmente agli obblighi formali che ho e poi cerco di cavarmela anche in questo ambito queste sono tutte difficoltà l'ultima delle quali dipende un po' anche dal livello di ingaggio che hanno gli attori formali del settore e quindi i ministeri e quindi le policy a livello di singola istituzione che possono o meno incentivare un'adozione intenzionale di risorse open e una condivisione intenzionale di risorse educative open sfruttando tutti questi aspetti che abbiamo cercato di mettere in evidenza già oggi e che continueremo a mettere in evidenza nei propri incontri promuovendo una cultura open che sia migliorativa e virtuosa nel tempo ecco sicuramente avere obblighi formali a volte può essere un peso in più a volte può essere invece in una forma di una sana via di mezzo che è una policy istituzionale o nazionale che inviti formalmente e magari con dei riconoscimenti a condividere le proprie risorse educative con delle licenze open e su questo si può lavorare perché abbiamo tantissimi esempi anche a livello internazionale dai quali partire per costruire la nostra pensate solo che l'MIT il Massachusetts Institute of Technology citato da Fabio prima che è la prima istituzione che ha rilasciato le risorse con modalità aperta prima ancora che esistessero le licenze per una decisione del Senato Accademico ha attualmente più del 70% dei docenti che condividono le proprie risorse educative con una licenza open e non hanno l'obbligo di farlo quindi è una scelta sarebbe bello che fosse così anche per tutti noi ecco a fronte di queste difficoltà ci sono una serie di benefici nei quali adesso non scendo in dettaglio perché vi invito veramente ad andare a leggerli con il vostro occhio personale mi piacerebbe che voi faceste questo sforzo di interpretare ruoli diversi provate a giocare prima di tutto come partecipante nel leggerli ma poi anche come docenti se lo siete ma anche dal punto di vista delle istituzioni se siete presentanti di un'istituzione provate a mettervi nei panni dei decisori nelle vostre istituzioni e infine come persone come cittadini qual è l'aiuto della open education in questo ambito guardate che tutti questi benefici che sono qui elencati non sono idee mie personali sono il risultato di una ricerca e poi di una rielaborazione fatta da bibliotecari a livello europeo del European Network of Open Education Librarians e che hanno condiviso questa ricerca bibliografica in modalità open nei link che poi trovate alla base e si sono anche fatti diciamo un notevole lavoro alle spalle per far sì che questi benefici dell'open education fossero leggibili in 18 lingue attualmente tutti basati su documenti presenti nel mondo della ricerca tutti quindi basati su experience based quindi sono tutti basati su esperienze esistenti documentate mi piacerebbe che poi voi le leggeste con il vostro occhio e magari anche giocando in ruoli diversi per vedere se vi tornano se non vi tornano ne parliamo perché le prossime volte andremo a vedere in dettaglio come lavorarci quindi alla fine perché siamo in chiusura perché usare le OIA perché supportano un futuro in cui i docenti e i docenti avranno accesso libero e gratuito ad una varietà di risorse educative rilevanti e di alta qualità migliorate create riviste modificate e condivise nuovamente in modo collaborativo attraverso le istituzioni quindi migliorate dalla comunità da tutti noi insieme un futuro in cui le risorse educative possono essere facilmente adattate per rispondere alle esigenze dei contesti e dei bisogni specifici di ogni esperienza educativa un futuro in cui il costo della creazione dell'uso e della manutenzione e dell'aggiornamento è inferiore rispetto al costo attuale questo sarebbe bellissimo per seguirle insieme questo è un po' usare altre parole per dire quello che è stato detto dai miei esimi colleghi precedenti e grazie per averlo detto voi infine vorrei farvi tornare velocissimamente anche sul fatto che come già ha detto la dottoressa Salafia abbiamo gli SDG a guidarci Sustainable Development Goals il numero 4 Quality Education for All è solo uno degli SDG che vedono la Open Education trasversalmente come uno strumento per raggiungerli tutti perché nell'SDG 4 l'Open Education è un obiettivo in sé così da condividere le risorse educative e renderle eccessive per tutti ma la Open Education può essere al servizio di tutti i singoli SDG perché se un contenuto che riguarda un SDG qualunque degli altri viene condiviso con una licenza Open e vedremo anche dei grandissimi esempi di questo in giro per il mondo allora tutti gli altri possono trarne beneficio e quindi tutti insieme raggiungeremo gli SDG prima se ci lavoriamo collaborativamente quindi direi che a questo punto io posso anche fermarmi qui perché non ho altri contenuti da presentarvi vorrei invece se ci sono domande oh ecco c'è anche Susanna in questo momento Susanna apri il microfono eccomi mi sentite eccomi qui buongiorno benvenuti a tutti mi scuso ma avrebbe fatto molto piacere introdurre questa serie di incontri di cui siamo orgogliosissimi e molto grati a Paola io il giovedì ho lezione tutto il giorno avevo predisposto una pausa alle 11 ma eravamo in una discussione intensa sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa con gli studenti e non mi sono accorta onestamente erano le 11 e quindi sono arrivata un pochino dopo e avevate già iniziato quindi non sono riuscita a introdurre vi vorrei innanzitutto ringraziare tantissimo di questa numerosissima partecipazione che ci sta dando molta soddisfazione perché sapete con Paola Corti prima di tutto ma come meted il tema dell'open education ci sta estremamente a cuore perché in questo momento di posso dire di trasformazioni importanti e di nuovi bisogni in campo educativo alla fine pensiamo che sia davvero anche da un punto di vista pragmatico molto molto pragmatico la la strategia vincente se non l'unica strategia che ci può portare a rendere sostenibili dei processi di profonda e diffusa innovazione didattica quindi su questo sicuramente continueremo ad investire spero che anche molti di voi che già vedo tanti amici che conosciamo che già hanno preso questa strada spero che questo corso vi possa aiutare a renderla ancora più più intensa e anche vorrei dire a promuovere con un'espressione poco sembra un pochino desueta e un po' moraleggiante ma vi assicuro che non è così a promuovere una sorta di generosità educativa generosità educativa cioè prendere i propri materiali metterli a disposizione degli altri costruire dei contenuti che siano utilizzabili visibili per tutti condividere le pratiche condividere gli strumenti è un modo anche per condividere un sistema di valori che dovrebbe essere fondante dei processi educativi in generale e se voi andate attraverso la piattaforma PoliMio per Knowledge di Politecnico non so se Paola ha avuto modo di parlarne ma vedrete che non solo diciamo le cose ma le facciamo cioè in particolare i MOOC a cui abbiamo collaborato Paola io e tutti i vari colleghi di METID dedicati ai docenti sono completamente aperti gratuiti riusabili scaricabili e anzi alcuni come progettare l'innovazione didattica sono rilasciati con le licenze CC BY per cui se riuscite a venderli e a farci soldi buon per voi siamo solo contenti questo perché perché partiamo sempre dall'ese che siamo un'università pubblica quindi siamo impegnati proprio per nostra natura a dover fare il massimo per restituire il maggior impatto possibile alla società che ci ospita e l'open education ci propone una linea strategica che va assolutamente in questa direzione quindi ringrazio tutti naturalmente in grande con una grandissima gratitudine Paola per l'impegno che ha messo in questa preparazione e buon buon proseguimento grazie Susanna grazie sicuramente siete tutti benvenuti in primis a riusare tutti i materiali che noi mettiamo a disposizione perché per noi è veramente una soddisfazione se hanno una seconda una terza una quinta vita e magari se qualcuno torna e ci dice guardate li ho usati in questo modo li ho cambiati così sono risultati ancora più efficaci magari riusateli anche voi così a noi piace imparare dalle esperienze che ci tornano indietro un'ultima cosa avete già nella chat il link se qualcuno di voi ha necessità o piacere a ricevere un form di partecipazione ogni incontro vi darà modo quando sarete con noi di completare un form specifico e vi manderemo poi a seguire un attestato che dice che avete partecipato a questi incontri se volete iscrivervi ai prossimi il form è sempre lo stesso ed è ancora aperto e rimarrà aperto fino alla fine di marzo fino al giorno prima anzi fino al giorno stesso dell'ultimo incontro quindi potete se ritenete che sia utile coinvolgere altri fateli venire e se hanno perso qualcuno degli incontri precedenti non c'è problema perché condivideremo le registrazioni quindi non potranno recuperare più diffondiamo la cultura della open education più persone avranno beneficio sia nel condividere le proprie risorse e imparare a farlo sia nel riusare le risorse degli altri grazie ancora tantissimo a tutti i nostri ospiti vedo ora Fabio Nascimbeni e la dottoressa Iacona rete open education italia e unesco italia e che ringrazio Francesco Branda anche Francesco Branda ottimo vi ringrazio vi ringrazio tantissimo per il sostegno all'iniziativa ma anche per la presenza qui oggi scusate non vi avevo visto subito grazie a me grazie a tutti voi benissimo un buon lavoro a tutti a presto grazie a tutti e buon proseguimento di giornata a presto ciao arrivederci arrivederci grazie a tutti